La possibilità di allungare in vetta la classifica è concreta. Proverà a sfruttarla la sud-est, chiamata a verificare anche in trasferta quanto meriti il primato nel campionato d'eccellenza. Perché lontano da Locorotondo, la squadra di Dermilio ha raccolto solo uno dei 16 punti collezionati. Il resto è frutto di cinque vittorie in casa con un solo gol subito e quello di Manduria diventa un test di maturità per la capolista. Il cui allungo in vetta potrebbe diventare concreto se appena dietro Mola e Vieste rallentassero la loro corsa. Del resto per la squadra di Caricola c'è da fare i conti con lo Stuni, sempre più saldamente nel gruppo delle migliori, e i garganici di Olivieri affrontano l'ambiziosa Libertas Molfetta, anticipando anche i temi della semifinale di Coppa Italia, in programma nel doppio turno di andata e ritorno a novembre. Anche per i Molfettesi quella di domani pomeriggio diventa una tappa di valutazione per le ambizioni di alta classifica. Ad oggi, con la sola eccezione del successo sul copertino, i biancorossi hanno impattato contro formazioni di prima fascia, Casarano e Fidelissandria nelle gare casalinghe. Se quelle di Mola e Molfetta sono anche le gare più interessanti della non aggiornata, per somma di punti in classifica, è a Franca Villa che si gioca l'incontro di cartello. La Virtus e la Fidelissandria si portano dietro i favori del pronostico per la vittoria finale del campionato, ma intanto arrancano al centro del gruppo e vivono questo scontro diretto come una sorta di spareggio. Chi lo perde rischia di allontanarsi troppo dalla vetta senza però compromettere la stagione. Non può permettersi passi falsi la squadra di Ragno dopo il pari casalingo contro l'Ascoli-Satriano, né tantomeno potrà rischiare rallentamenti la formazione messapica e questo dalla misura di una sfida nella quale potrebbe prevalere la prudenza. Atteggiamento al quale non deve far ricorso il Trani contro il quartiere Uniti Bari. La trappola di una trasferta che si annuncia abbordabile se la potrebbe creare da sola la squadra di Pizzulli sottovalutando l'avversario. Il turno si annuncia agevole sulla carta per il Casarano contro il Copertino e il Gallipoli che ospita il Francavilla, mentre il Galatina rischia Massafra. Punti salvezza sono in palio tra Ascoli-Satriano e Castellaneta.